Si comincia a lavorare il film Gelone, la spada e la gloria della regista Gianni Virgadaula promosso dall'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Ollus. Il film sarà patrocinato dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in collaborazione con la Film Commission di Siracusa e di Agrigento e il Comune di Gela. I primi giac si terranno al Castello Biscari Decante a Marina di Dacusa e anche nella città del Golfo. Gelone è un bellissimo progetto che ci consentirà di far conoscere questa figura in Italia e noi speriamo anche nel mondo perché il progetto nasce già come idea di distribuzione internazionale. Ovviamente Gelone sarà anche pretesto per parlare del periodo forse più bello, più aureo della Sicilia antica, la Sicilia greca, un periodo forse irripetibile di cui ancora conserviamo testimonianza nelle nostre città più importanti, Agrigento, Siracusa e anche qui nella nostra Gela, un patrimonio molto bello e importante che però non sempre viene valutato e visto a sufficienza dai turisti. Questo purtroppo è un danno. Ma chissà che il film Gelone non costringa poi i turisti anche a venire dalle nostre parti. Paola Sini è la protagonista femminile del film, con lei anche Michele Nicotra, Tony Gangitano, Alfonso Marchica, Gestar, il popolare attore iraniano Armaz Vasvi che presto sarà accanto a Terence Hill nella nuova serie Don Matteo e in una fiction televisiva protagonista assieme a Beppe Fiorello. Gianni è un grandissimo professionista, uno dei pochissimi che ancora si spende e si impegna per far capire quanto sia importante il mezzo cinematografico per ricostruire la storia. Questo è un progetto che avrà luogo in zone naturali, in zone non ricostruite, questo per un attore importantissimo e poi insomma la mia radice sarda insieme a tutta la miscellanea di quello che il mio lavoro porta, quindi prendi un po' qua e un po' là, mi hanno fatto sentire nei panni da Marette soprattutto dal punto di vista della deontologia della persona. Una grande regina e farò qualsiasi cosa per darne degna rappresentazione. Nel cast anche gli attori gelesi Emanuele Giammusso, Marco Abbate, Elena Di Stefano, Clara Cirignotta, Erika Pelligra e Maria Giannone.